L'intento di questo video è di ristabilire un po' di verità storica sulla vicenda russa-ucraina. Noi, infatti, viviamo all'interno di una narrazione a senso unico, secondo la quale Vladimir Putin è l'unico responsabile della situazione attuale. Putin, ci dicono i nostri media, è un dittatore sanguinario, ossessionato dalla voglia di restaurare un impero che non esiste più e non esita a invadere, a distruggere e uccidere pur di realizzare il suo sogno. Putin va fermato con le buone o con le cattive. In realtà, se uno ci pensa un attimo, questa narrazione non può stare in piedi così com'è. Solo nei fumetti c'è un cattivo che si sveglia al mattino e decide di conquistare un mondo fatto tutto di persone brave e innocenti. Nel mondo reale le cose sono un po' più complicate, le colpe non stanno mai da una parte sola. Il problema è che le nostre televisioni ci mostrano solo la guerra in corso, dal mattino alla sera, ma si dimenticano sistematicamente di spiegarci come siamo arrivati a questo punto. E, come dice Quaglia, non puoi mostrare alla gente solo gli ultimi 30 secondi di un film e sperare che capisca tutta la trama. Bisogna raccontargli tutta la storia, fin dall'inizio. Allora noi ci proviamo. Lo faremo in modo ovviamente sommario, ma cercheremo almeno di toccare tutti gli snodi essenziali della vicenda. Dopodiché ognuno potrà farsi la propria opinione. I temi principali da tenere d'occhio sono due. Uno è interno all'Ucraina, uno è esterno. Quello interno riguarda la storia del popolo ucraino e della profonda divisione interna che si è creata negli ultimi cento anni fra filo russi e filo occidentali. L'altro tema è esterno e riguarda la collocazione politica dell'Ucraina negli equilibri internazionali. Stare con la Russia, rimanere indipendenti o stare con l'Occidente entrando eventualmente nella NATO. Per quel che riguarda la storia interna, dobbiamo tenere presente che parliamo di un paese di 44 milioni circa di abitanti profondamente diviso da forti differenze etnico-linguistiche. Una parte occidentale del paese, in giallo, che parla prevalentemente ucraino e la parte sudorientale, in rosso, che parla prevalentemente russo. In realtà non c'è una netta linea di divisione, le transizioni sono molto più progressive. Nella zona occidentale, che si chiama Galizia, si parla ucraino puro. Nel centro si parla una lingua mista di ucraino e russo e man mano che si va verso sud-est prevale la lingua russa pura. Ma ucraini e russi sono anche due etnie diverse e non sono mai andati d'accordo. Sono soprattutto gli ucraini, non tutti ovviamente, ma molti ucraini, a odiare visceralmente i russi. I motivi di questo odio risangono addirittura agli anni 30 del secolo scorso, nel periodo dello stalinismo. Dopo la rivoluzione russa del 1917, l'Ucraina è entrata a far parte dell'Unione Sovietica. Non c'è entrata molto volentieri. Addirittura parte degli ucraini combattè nell'armata bianca contro i bolshevichi. Ma poi i rossi vinsero e l'Ucraina si ritrova a far parte dell'Unione Sovietica. E una delle cose che non è mai stata digerita dagli ucraini era la nuova politica di Stalin che voleva centralizzare e redistribuire tutte le risorse del paese. La famosa collettivizzazione che obbligava i piccoli agricoltori locali, chiamati kulaki, a cedere allo Stato i loro terreni per darli ai kolkos, le grosse organizzazioni statali che gestivano i beni agricoli. Questo significava che l'Ucraina, ricca soprattutto di grano, diventava progressivamente il granaio di tutta l'Unione Sovietica, a proprie spese naturalmente. E visto che molti kulaki si rifiutavano di cedere i propri terreni allo Stato, Stalin nel 1932 decise di mettere fine al problema e lo fece ovviamente a modo suo. Per punire i ribelli ucraini provocò una vera e propria carestia che durò diversi anni e costò all'Ucraina diversi milioni di morti, dai 4 ai 6, dicono le statistiche. Questa tragedia è ricordata dagli ucraini con il nome di Holodomor. Confische violente di terreni, deportazioni di masse nei gulag, rimozioni forzate di famiglie e villaggi e naturalmente pena di morte per chi non accettava gli ordini di Mosca. Ripeto, sono fatti di quasi 100 anni fa, ma è importante capire da dove nascano le radici di quell'odio profondo che ancora oggi una parte degli ucraini prova verso la Russia. E infatti, proprio negli anni 30, nascono in Ucraina diverse organizzazioni filonaziste, che naturalmente sotto Stalin devono rimanere clandestine. Queste organizzazioni sono basate soprattutto nella Galizia, la regione occidentale del paese. La più importante di queste organizzazioni è la OUN, Organizzazione degli Ucraini Nazionalisti, fondata nel 1929. Uno dei leader più importanti della OUN era Stefan Bandera. Il loro simbolo era una bandiera rossa e nera. Il rosso rappresentava il sangue, il nero la terra. Anti-russo, anti-polacco e anti-semita, Bandera proclamava la superiorità e la purezza del popolo ucraino, esattamente come i tedeschi proclamavano la superiorità e la purezza del popolo ariano. Ancora oggi, come vedremo, Bandera è considerato il più importante simbolo del nazionalismo ucraino. Quando nel 1941 le truppe di Hitler lanciano l'operazione Barbarossa per conquistare la Russia, devono ovviamente attraversare anche l'Ucraina sulla direttiva sud verso Stalingrado. E le truppe naziste nell'Ucraina occidentale vengono accolte come veri e propri liberatori. Le organizzazioni filo-naziste clandestine escono allo scoperto e molti nazionalisti ucraini diventano collaborazionisti dei tedeschi. Intere divisioni e battaglioni vengono formati da collaborazionisti ucraini. La più importante era la divisione Galizia, che arruolò ben 80.000 collaborazionisti ucraini. Naturalmente sotto i tedeschi queste armate ebbero mano libera e compirono stragi etniche dappertutto. Il massacro più famoso è quello di Babi Yar, vicino a Kiev, quando 33.000 ebrei vennero sterminati in due giorni dalle bande armate della OUN di Bandera. Un altro massacro riguardò invece 37.000 polacchi che furono trucidati nella zona orientale della Galizia dagli squadroni della morte di Mikola Lebed, un socio di Bandera. Questa era l'aria che si respirava nell'Ucraina occidentale durante l'invasione dei tedeschi. Poi però Hitler perse la guerra l'Ucraina rimase nel blocco sovietico e le bande filonaziste dovessero tornare in clandestinità. Ma non persero tutti i loro amici. Gli americani, infatti, hanno sempre dimostrato una grande lungimiranza nel mettere in salvo elementi del nazismo che possono tornargli utili in futuro. Lo hanno fatto con la famosa operazione Paperclip, quando 1.500 scienziati tedeschi furono aiutati a fuggire negli Stati Uniti dopo la fine della guerra e lo hanno fatto anche con i nazisti ucraini, mettendo in salvo lo stesso Bandera e aiutandolo a fuggire in occidente. Bandera ha vissuto a Monaco sotto falso nome fino al 1959, quando fu ritracciato e ucciso da agenti del KGB. Un altro nazista ucraino aiutato a espatriare dalla CIA fu Mikola Lebed, l'autore dei massacri dei polacchi durante il nazismo. Lebed fu trasportato direttamente negli Stati Uniti, dove visse serenamente fino al 1998 sotto la protezione della CIA. Questa alleanza tra la CIA e i nazisti ucraini è molto importante e lo vedremo tornare in seguito. Il motivo per cui la CIA strinse l'alleanza con i nazisti ucraini è molto semplice. Li utilizzavano come fonte di informazione clandestina locale nei confronti dei sovietici. Cioè avevano già le spie lì pronti sul territorio. Entriamo così nella Guerra Fredda, che dura dal 1946 fino alla caduta del Muro di Berlino, nell'89. Sono quasi 45 anni, nei quali i due blocchi si fronteggiano in modo netto lungo la linea chiamata Cortina di Ferro. A destra il patto di Varsavia, guidato da Mosca, a sinistra la NATO, che comprende ovviamente anche Canada e gli Stati Uniti. La Svezia e la Finlandia, sopra, rimangono neutrali, esattamente come Svizzera e Austria, al centro. La Jugoslavia, anche se viene considerata come parte del blocco comunista, ufficialmente non è mai entrata nel patto di Varsavia. Nel periodo della Guerra Fredda sono due gli episodi che ci interessano. Uno avviene nel 1954, quando Khrushchev, il successore di Stalin, regala la Crimea all'Ucraina. I motivi di questo regalo non sono mai stati chiariti fino in fondo. C'è chi sostiene che fu regalata perché Khrushchev, ucraino lui stesso, voleva in qualche modo riparare le ferite subite dall'Ucraina sotto Stalin. C'è chi dice che volle celebrare il trecentesimo anniversario dello storico patto di amicizia tra Ucraina e Russia, che era del 1654. Insomma, di sicuro non si sa. Di fatto, la Crimea nel 1954 diviene parte integrante dell'Ucraina, sempre all'interno dell'Unione Sovietica, ovviamente. Non c'erano confini tra uno Stato e l'altro. Rimane comunque sotto diretto controllo russo la base navale di Sebastopoli, che è la sede della flotta navale russa nel Mad Nero. Il secondo episodio che ci interessa è la famosa crisi dei missili di Cuba del 1962. Per farla breve, nel 1959 Castro guida la rivoluzione cubana e l'isola entra a far parte del blocco sovietico. Nel 1962, alcuni aerei spie americani, gli U-2, rivelano che a Cuba è in corso la costruzione di rampe per missili nucleari, ovviamente di costruzione sovietica. A quel punto, il presidente Kennedy fa una scelta arrischiata ma intelligente. Invece di trattare con i russi dietro le quinte, si presenta in televisione e denuncia il fatto davanti al mondo intero. Invece di ultima settimana, la evidenza nonostante ha stabilizzato il fatto che una serie di missilii offensivi è ora in preparazione sull'isola in preso. Il purpose di queste basi può essere niente altro che proporzare una capacità di rivoluzione nucleare contro la hemisferia occidentale. E una cosa era certa. Kennedy era assolutamente disposto a rischiare la terza guerra mondiale visto che si preparava ad invadere Cuba se le rampe di lancio non fossero state rimosse. Questo noi lo sappiamo dalla registrazione telefonica di una conversazione che Kennedy ebbe con l'ex presidente Eisenhower proprio durante la crisi dei missili. Sentiamo lo scambio fra i due. We're not going to be in any position che si avvicini a scambio. We're not going to be in any position. Oh, I don't believe in any position. We're not going to be in any position. In other words, you would take that risk if the situation seems to be in line. As a matter of fact, what can you do? Well, hang on tight. Yes, sir. Thanks, sir. Quindi avete sentito, Kennedy era pronto a invadere Cuba e a rischiare uno scontro nucleare con la Russia, pur di non avere quei missili piazzati a 200 km dalle coste americane. Poi per fortuna i russi fecero marcia indietro e i missili cubani furono smantellati. Kennedy, in cambio, promise di non invadere mai Cuba, tolse zitto zitto i suoi missili dalla Turchia, che erano puntati sulla Russia, e la crisi finì lì. Fu il momento in cui, secondo tutti gli storici, le due superpotenze arrivarono più vicino ad una guerra atomica. Torniamo adesso alla cronologia e saltiamo alla fine della guerra fredda. Nel 1989 crolla il muro di Berlino e nell'arco di pochi anni l'Unione Sovietica velocemente si disintegra. Una per uno tutte le nazioni satellite che ne facevano parte conquistano la loro indipendenza. Anche l'Ucraina, nel 1991, diventa un paese indipendente. E qui, con la caduta del muro, si pone un grosso problema, perché tutti si rendono conto che dei due blocchi contrapposti ne resterà soltanto uno. Teoricamente, con la dissoluzione del patto di Varsavia, la NATO non avrebbe più motivo di esistere, perché era un patto difensivo contro una coalizione che non c'è più. Invece, gli americani non ci pensano nemmeno a scioglierla, perché la Russia, anche come stato singolo, rimane comunque un problema per loro e capiscono che la NATO può diventare in futuro lo strumento adatto per farla definitivamente crollare. Quindi, se la tengono bella stretta. Questo, però, rischiava di portare grossi squilibri nello scacchiere internazionale. Questo articolo di Der Spiegel racconta bene che cosa accadde dopo la caduta del muro. Il primo problema fu rappresentato dalla Germania Est, che faceva parte del patto di Varsavia, che di colpo, riunificandosi alla Germania Ovest, avrebbe fatto parte della NATO. Quindi, per la Germania Est non si trattava nemmeno di fare una transizione intermedia, diventando prima un paese indipendente, ma si trattava di entrare da un giorno all'altro a far parte del blocco opposto. I russi volevano quindi delle garanzie che la cosa si sarebbe fermata lì, alla Germania Est, e che l'espansione della NATO verso Est non ci sarebbe stata. Dall'articolo dello Spiegel leggiamo Ai primi di febbraio del 1990, Genscher, il ministro degli esteri tedesco, e Baker, il ministro degli esteri americano, presentarono la stessa idea a Mosca separatamente. Il ministro degli esteri tedesco assicurò al Cremlino che Per noi è una certezza che la NATO non si espanderà verso Est, e questo è un concetto generale, indicando chiaramente che andava oltre la sola Germania dell'Est. L'americano, da parte sua, offrì ferree garanzie che la giurisdizione della NATO e le sue forze non si sarebbero spinte verso Est. Quando Gorbaciov disse che l'espansione della NATO era inaccettabile, Baker rispose su questo, siamo d'accordo. Il presidente americano George H. Bush aveva dichiarato Non abbiamo alcuna intenzione, nemmeno nei nostri pensieri, di danneggiare l'Unione Sovietica in qualunque maniera. Il presidente francese François Mitterrand aveva detto a Gorbaciov che lui era personalmente a favore di uno smantellamento graduale dei blocchi militari. Il segretario generale della NATO, Manfred Warner, più tardi espresse la sua chiara opposizione ad un'espansione dell'Alleanza occidentale. Il messaggio era chiaro. Se Gorbaciov avesse consentito alla riunificazione della Germania all'interno della NATO, l'Occidente avrebbe cercato di costruire un'architettura di sicurezza occidentale che tenesse conto degli interessi di Mosca. E così, nel 91, la Germania viene riunificata con capitale Berlino e rimane parte integrante della NATO. Il patto, solo verbale non scritto, è che la NATO non si espanderà ulteriormente verso est. Poi più avanti, molti dei partecipanti a questi incontri sarebbero diventati improvvisamente degli smemorati che non si ricordavano più bene quello che avevano detto. Ma al momento il patto fu chiaro per tutti ed è quello che abbiamo da scritto. Il problema è che negli Stati Uniti, in quel periodo, i Neocons stavano lentamente arrivando al potere e con loro diventava predominante un'altra filosofia, la filosofia che li voleva come una forza unica dominante nel nuovo secolo che stava per iniziare, quello che loro chiamavano il nuovo secolo americano. Naturalmente, dal loro punto di vista, per essere l'unica forza dominante bisognava in qualche modo togliere di mezzo definitivamente la Russia. Nell'ormai famosissimo documento intitolato Rebuilding America's Defenses, i Neocons scrivevano Gli Stati Uniti sono oggi l'unica superpotenza al mondo che riunisce un predominante potere militare, una leadership tecnologica globale e la più grande economia del mondo. Inoltre, l'America è alla guida di un sistema di alleanze, la NATO appunto, che include tutte le altre più importanti nazioni democratiche del mondo. In questo momento, gli Stati Uniti non hanno nessun rivale al mondo. La strategia a lungo termine dell'America dovrebbe cercare di preservare e di estendere il più possibile nel futuro questa posizione di vantaggio. E poi dicevano Ciò che dovrebbe determinare le dimensioni e le caratteristiche delle nostre forze nucleari non è una parità numerica con la Russia, ma il mantenimento della superiorità strategica americana e insieme a questa superiorità la capacità di scoraggiare possibili coalizioni ostili di potenze nucleari. La superiorità nucleare degli Stati Uniti non è nulla di cui dobbiamo vergognarci, anzi, sarà un elemento essenziale per preservare la leadership americana in un mondo sempre più caotico e complesso. Questa era la filosofia dominante negli Stati Uniti, sul finire del secolo scorso, altro che rispettare le ragioni di sicurezza della Russia. Noi vogliamo il controllo assoluto del mondo e adesso è il momento giusto di approfittarle per prendercelo. E lo mettevano pure nero su bianco. Naturalmente non è che la Russia fosse passata di colpo da superpotenza atomica a uno stacerello qualunque armato di cerbottane. Avevano comunque ancora tutto l'arsenale atomico intatto. Non era quindi pensabile da parte degli americani aggredirli frontalmente con le armi. Bisognava trovare il modo di indebolirli piano piano dal punto di vista economico. E per indebolirli economicamente gli americani hanno due strade principali. Una è di obbligarli ad una spesa militare sempre crescente, l'altra è quella di imporgli stazioni economiche ogni volta che se ne presenti la possibilità. Per imporgli una spesa militare esorbitante bisogna circondare dappertutto di basi militari con i missili puntati su Mosca. In questo modo non solo li minacci fisicamente, ma li obblighi anche a spendere cifre enormi dal punto di vista militare per mettere in atto ogni volta le controvisure. Ecco cosa intendevano i Niokon quando parlano di mantenimento della superiorità strategica americana. Continuare a piazzare sempre più missili in modo da obbligare i russi a una rincorsa infinita che li piegasse economicamente. Infatti, a proposito di Nero su Bianco, nel 1997 esce il famoso libro di Zibnick-Brezinski The Grand Chessport, cioè il Grande Scacchiere, il primato americano e i suoi imperativi geostrategici, nel quale viene delineata chiaramente la strategia futura degli Stati Uniti verso la Russia. Invogliare e portare dalla parte dell'Occidente, uno per uno, i vari paesi dell'ex patto di Varsavia, in modo da circondare la Russia con una specie di cordone sanitario sempre più minaccioso e preoccupante per loro. Questa filosofia di provocare e fare nervosire i russi è stata chiaramente espressa da un senatore americano, un certo Joe Biden, già nel 1997. Sentite Biden che dice come un modo per provocare una reazione vigorosa e ostile dei russi, ma non militare, sarebbe quella di ammettere nella Nato gli stati del Baltico. E guardate il sorriso furbetto con cui lo dice. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian-US-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance were to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. E infatti, contrariamente agli impegni presi con i russi nel 1991, ecco che nel 99 entrano a far parte della Nato Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Nel 2004 entrano anche Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Romania e Bulgaria. Mancava il pezzo forte per completare l'accerchiamento, l'Ucraina. E che cosa succede proprio nel 2004 in Ucraina? Guarda caso, la prima rivoluzione colorata finanziata dagli Stati Uniti per cercare di portare anche l'Ucraina nella sfera occidentale. L'Ucraina, infatti, a partire dalla sua indipendenza nel 1991, era sempre rimasta neutrale, manteneva rapporti sia con l'Occidente che con la Russia, ma non si era mai sbilanciata troppo, né in un senso né nell'altro. Ma nel 2004 ci sono nuove elezioni alle quali si presentano due candidati, il filo russo Viktor Yanukovych e il filo occidentale Viktor Yushchenko. In realtà Yushchenko era qualcosa di più di un filo occidentale, era proprio il candidato scelto e supportato dagli Stati Uniti. Pensate solo che la moglie, Katerina Yushchenko, aveva lavorato alla Casa Bianca già con Ronald Reagan e poi era diventata un alto funzionario del Ministero degli Esteri Americani. Quindi abbiamo praticamente un candidato supportato dalla CIA e l'altro dal KCB. Per la prima volta l'Ucraina diventa un terreno di scontro tra Russia e Stati Uniti. Come vedete dalla cartina, il voto si divide chiaramente lungo le opposte zone geografiche. Il nord-ovest, con la capitale Kiev, vota a favore di Yushchenko, pro-occidentale, mentre il sud-est vota a favore di Yanukovych, pro-Russia. Al conteggio vince di poco Yanukovych, il filo russo, ma questo a qualcuno non piace. A Kiev la gente contesta il risultato e scende in piazza per protestare. È la prima piazza Maidan, quella del 2004, la cosiddetta rivoluzione arancione. Dopo un mese, la Corte Suprema annulla il risultato elettorale e indice nuove elezioni. E questa seconda tornata la vince Yushchenko, che diventa il nuovo presidente dell'Ucraina. Yushchenko viene ricevuto a Washington come un eroe. Ora, che la rivoluzione arancione sia stata fomentata e finanziata da Washington non è più un dubbio per nessuno. Addirittura c'è un famoso analista geopolitico americano, George Friedman, che lo ammette apertamente nelle sue conferenze. I russi sapevano benissimo che cosa stava succedendo, ma in quel momento non potevano far altro che stare a guardare. Inizia infatti, sotto i loro occhi, quella che Putin definisce oggi la nazificazione dell'Ucraina. Una volta diventato presidente, Yushchenko sceglie come primo ministro Yulia Timoshenko, una estremista di destra che odia visceralmente i russi. All'ombra della Timoshenko fioriscono i vari leader dell'estrema destra, come Arseniy Yatsenyuk, dello stesso partito della Timoshenko, Vitali Klitschko del partito ultranazionalista UDAR oppure Olek Tianibok del partito neonazista Svoboda. Tenete presente questo trio perché più avanti li rivedremo in azione. Durante la sua presidenza inoltre, Viktor Yushchenko compie un gesto forsemente significativo per i nazisti del suo paese. Riabilita Stefan Bandera era nomina addirittura Eroi Nazionale. На завершення я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу відстоювані національні ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герою України за достоином Ордена держави Бандери Степану Андреевичу. Слава Україні! Sarà stata molto contenta la moglie di Yushchenko, Катерина, che fin da giovane aveva espresso apertamente le sue preferenze politiche. Pensate, un alto funzionario del Ministero degli Esteri americano che fa il saluto nazista e fanno tutti finta di niente. In ogni caso, la lazificazione dell'Ucraina subisce una battuta d'arresto con le elezioni del 2010. Yushchenko, infatti, pur avendo avuto mano libera per sei anni, non è riuscito a realizzare le riforme che aveva promesso e alle elezioni si ritrova nuovamente di fronte a Yanukovych, il candidato filorusso. E questa volta Yanukovych vince in modo netto, senza margini di dubbio nel conteggio delle schede. Qui inizia un periodo delicato perché il filorusso Yanukovych viene comunque tentato dalle sirene dell'Occidente. Il Fondo Monetario Internazionale gli promette grossi prestiti per entrare nell'Europa, ma in cambio chiede riforme e cambiamenti sociali che andrebbero a danneggiare le classi più povere. Fanno sempre così i banchieri con i paesi poveri. Ti fanno vedere i soldi, ma in cambio ti chiedono di fare un po' di macelleria sociale. È lo stesso Yanukovych a raccontare questo in un'intervista con Oliver Stone. Quindi un po' Lungo tira e molla, Yanukovych decide di non firmare l'accordo economico con l'Europa. E questa è la svolta storica che determina tutto quello che succederà nei prossimi otto anni. I media occidentali rimpiangono apertamente la mancata opportunità per attrarre l'Ucraina nell'orbito occidentale. Inizia la preparazione del colpo di Stato. Il deputato ucraino Tsarov denuncia in Parlamento l'operazione Tech Camp, gestita dall'ambasciata americana di Kiev per organizzare e guidare tramite i social la rivolta popolare. Il deputato uccidentale, che nel terreno della nostra città, per partecipare e per partecipare il consapevole Stato dell'Ameria, esistisce un progetto Tech Camp, in cui avviene la preparazione di rivoluzione la guerra in Ucraina. Siamo nel dicembre 2013 e i cittadini di Kiev scendono in piazza per protestare contro il mancato accordo con l'Europa. Inizialmente le proteste sono pacifiche. Nel frattempo, Victoria Nuland vola a Kiev per incontrare il presidente Yanukovych. La Nuland è il personaggio chiave di tutta la faccenda. Già ambasciatrice degli Stati Uniti per la Nato ai tempi di Bush, Victoria Nuland è la moglie di uno dei neocons più importanti, Robert Kagan. Kagan è uno dei fondatori del PNAC ed è uno degli autori del famoso documento Rebuilding America's Defenses. Ricordate? Dobbiamo mantenere la superiorità strategica nucleare in tutto il mondo? È lui. Tanto per capire il personaggio, Kagan è noto per una frase che è diventata lo slogan dei neocons. Quando hai un martello, tutti i problemi cominciano ad assomigliare a dei chiodi. All'epoca di Maidan, la Nuland era la vice del ministro degli esteri americano, John Kerry, con delega speciale per l'Eurasia. Eccola qua, l'infiltrazione dei neocons nel governo americano. Semplice e diretta, sotto gli occhi di tutti. Nel dicembre 2013, di fronte all'associazione USA-Ucraina, Victoria Nuland racconta del suo incontro appena avvenuto a Kiev con il presidente Yanukovych. Praticamente la Nuland gli ha detto, sono cinque anni che lavoriamo per portare l'Ucraina in Occidente, abbiamo già speso cinque miliardi di dollari. Tu devi firmare l'accordo con l'Europa, altrimenti per te non c'è futuro. Io ho spostato più di due ore con il presidente Yanukovych. C'era una conversazione difficile, ma anche una realistica. Il Stato crede che c'è un modo per l'Ucraina, che è ancora possibile salvare l'Europa dell'Europa dell'Europa, e che è l'unico dove vogliamo vedere il presidente guidare il suo città. È un grande shame di vedere cinque anni di lavoro e preparazione si la Nuland non è signata nel prossimo futuro. Ma Yanukovych, nonostante le pressioni dell'Occidente, non cede e si rifiuta di firmare l'accordo con l'Europa. A quel punto gli americani decidono che è giunto il momento di toglierlo di mezzo. Le proteste di piazza Maidan, che erano iniziate in modo pacifico, improvvisamente diventano violente. Con la solita tecnica dei cecchini, che iniziano a sparare contemporaneamente sulla folla e sulla polizia, si scatena la violenza in piazza, e le proteste vanno velocemente fuori controllo. From one of the upper windows of the hotel, a shock rang out. Up there, okay, yeah, our hotel. That window, one, two, three, four, fifth row from the left, second from the top, one that was open. From the very early morning, unidentified shooters opened fire on the protesters and on law enforcement. Ovviamente, in poco tempo, piazza Maidan si trasforma in un bagno di sangue, dove tutti sparano su tutti e nessuno capisce più niente. in un bagno di sangue, Dopo tre mesi di rivolte, qui adesso la facciamo breve, il presidente Yanukovych viene deposto ed è costretto ad abbandonare il paese, rifugiandosi in Russia. Al suo posto verrà eletto Petro Poroshenko con primo ministro Yatsenyuk, ovviamente graditi all'Occidente, e il colpo di Stato è completato. C'è però chi nega che questo sia stato un colpo di Stato orchestrato dagli americani e dice no, è stato un normale processo democratico interno all'Ucraina. In realtà nessuna manifestazione pacifica ha mai portato da sola al rovesciamento di un governo. Ci vuole sempre una scintilla, qualcosa che da pacifica la trasforma in qualcos'altro di molto più efficace. E allora facciamo un passo indietro e andiamo a vedere chi c'era in piazza Maidan ad aizzare le folle contro Yanukovych. Arseniy Yatsenyuk, del partito della Stimoshenko, insieme a Vitaly Klisko, di Udar, e Oleh Tiani-Bok, del partito Svoboda. E sono proprio questi tre personaggi, curiosamente, l'oggetto di una telefonata che avviene in quel periodo fra l'ambasciatore americano Payet e Victoria Nuland. Questa telefonata, soprannominata Nuland Gate, doveva restare ovviamente segreta, ma qualcuno l'ha resa pubblica, creando un grande imbarazzo al Dipartimento di Stato americano. Si sentono infatti chiaramente la Nuland e Payet che decidono quale dovrà essere la formazione del nuovo governo ucraino dopo il rovesciamento di Yanukovych. Chi potrà farne parte e chi no. Secondo la Nuland, Yatsenyuk può fare il primo ministro, mentre i neonazi Klisko e Tiani-Bok sono impresentabili e possono rimanere accanto a lui, ma devono agire nell'ombra. Questa telefonata è diventata famosa anche perché ad un certo punto la Nuland si lascia scappare il famoso fuck the EU, cioè l'affanculo all'Europa, quando dice che bisogna portare avanti l'operazione sotto legida dell'ONU. Alla fine della telefonata la Nuland conferma all'ambasciatore Payet che c'è l'ok del vicepresidente Biden su tutta l'operazione. Durante le rivolte la Nuland si premura anche di farsi vedere in piazza sempre accompagnata dall'ambasciatore Payet mentre porta il pane ai manifestanti. Un altro che sente un po' un gran bisogno di visitare l'Ucraina in quel periodo è il senatore americano John McCain. E McCain non si fa il minimo problema ad arringare le folle in piazza come se fosse a casa sua. E guardate un po' chi c'è sul palco insieme a John McCain? Oleg Tianibok, il leader del partito nazista Svoboda. Ricordate? È dalla fine della guerra che gli americani mantengono buoni rapporti con i nazisti ucraini e finalmente gli sono tornati utili. Ora qui non è che noi usiamo il termine nazista così in modo arbitrario. Tanto perché sia chiaro con chi abbiamo a che fare? Questo è un post di Tianibok comparso sul sito ufficiale di Svoboda, il suo partito. Un altro che è un po' ma anche pro-rumyneschi, pro-vingerschi, pro-tatarschi. E' bravo John McCain, è così che si esporta la democrazia. Ed ecco qui la Nuland con i suoi tre gioielli. Yatsenyuk, il volto presentabile della destra, Klitschko, Diodar e Tiani Bok, il neonazista che farà il lavoro sporco stando fuori dal governo. Gli stessi tre di piazza Maidan. A volte, quando si dice le coincidenze. A Klitschko poi viene dato un contentino e diventa sindaco di Kiev. E nuovamente chi c'è a congratularsi con lui per elezione a sindaco? Ma Victoria Nuland, ovviamente. E' stato fantastico. Pensate, il vice ministro degli esteri americano che sente il bisogno di complimentarsi con il neoeletto sindaco di Kiev. Dopodiché, un bel bacino a Yatsenyuk, una stretta di mano dell'ambasciatore Payet, e il nuovo governo installato dagli americani è pronto ad operare sotto la presidenza di Poloshenko. Filo americano, ovviamente. A questo punto Yatsenyuk inizia a darsi da fare per portare l'Ucraina verso la Nato. Ma congeliamo un attimo la questione internazionale, ricordiamo siamo nel 2014, e vediamo prima cosa succede all'interno del paese dopo il colpo di Stato. Dopo la vittoria, infatti, Tiani-Bok e i suoi compari cominciano a preparare i manganelli. La nazificazione dell'Ucraina e l'odio verso i russi esplodono senza più freni. Le statue di Lenin vengono abbattute in diverse città ucraine. Escono all'aperto organizzazioni paramilitari di chiara ispirazione nazista. La più vistosa è Pravi Sektor, settore destro, che rispolverà la vecchia bandiera rosso-nera dei primi nazisti ucraini. Compaiono nelle città veri e propri battaglioni di miliziani che fanno ronde giorno e notte e si assumono direttamente l'incarico di mantenere l'ordine, visto che, dicono loro, la polizia non se ne occupa abbastanza. Nasce anche il famigerato battaglione Azov, una organizzazione paramilitare di chiara ispirazione nazista che nel 2014 viene incorporata direttamente nella Guardia Nazionale Ucraina dal ministro degli interni Avakov. Tornano a vedersi in piazza le lunghe fiaccolate dei nazisti. Esattamente come ai tempi di Hitler. Naturalmente, il ritratto di Stefan Bandera campeggia in prima fila mentre si inneggia all'eroe nazionale. Gli ucraini nazisti della Seconda Guerra Mondiale ricevono speciali cerimonie di risepoltura mentre vengono celebrati come eroi da soldati ucraini in uniforme nazista. I ragazzini ucraini ricordano molto da vicino le Jugendbombe, la gioventù nazista dei tempi di Hitler. Nelle manifestazioni i ragazzini ucraini prendono a calci la bandiera russa. Nelle scuole si insegna che i bambini con un soprannome russo non sono dei veri ucraini e che vanno segregati e rimandati a casa. Ai bambini più piccoli viene insegnato a dire massacreremo i russi e a fare il saluto nazista. I tempi per i russi in Ucraina si fanno duri. Sentite il programma del presidente Poroshenko per i suoi concittadini di lingua russa. «Nwriting esistà, non c'è lavoro? Non c'è lavoro. Sommo pensie ne pensiscono e non c'è lavoro. Sommo supporto dei figli, Iti, i pensioni non c буквi. T кра Infiniti non c'è ruimte. Tinfampiteziano a casa i figli e grattivi dalmaye. Ma convince quelli vengono stbirte al sottile? E questa è Giulia Timoshenko che è tornata in piazza dopo aver passato tre anni in prigione per abuso di potere. Sentite i programmi umanitari che ha in mente per i suoi concittadini russi. Questa è l'aria che si respirava a Kiev dopo il colpo di stato di Maidan. A quel punto i russi della Crimea, che sono il 98% della popolazione, capiscono l'antifona e scegliono di staccarsi immediatamente dall'Ucraina e di tornare sotto la Russia. Ricordate, la Crimea è sempre stata russa, ma era stata donata da Khrushchev all'Ucraina per motivi mai chiariti. Quindi, nel marzo 2014, gli abitanti della Crimea organizzano un referendum nel quale respingono l'autorità del governo golpista di Kiev e votano per tornare sotto la Russia. Il referendum si svolge in modo pacifico e il sì vince con percentuali schiaccianti. Il 96,77% dei votanti sceglie di tornare a far parte della Russia. Questa è una residente di Sebastopoli dopo il voto. Questa mossa ovviamente fa imbestialire gli occidentali, che accusano Putin di aver messo in piedi un referendum farsa per compiere un'annessione di fatto. In realtà basta guardare le manifestazioni di piazza contro il governo golpista di Kiev e a favore della Russia per capire che quella è stata la vera volontà degli abitanti di Crimea. Questa è stata la vera volontà degli abitanti della Russia. E qui, dopo il referendum, succede una cosa pazzesca. Cioè l'Occidente capovolge completamente la narrazione dei due eventi. Quello che è stato chiaramente un colpo di Stato a Kiev viene fatto passare per legittima espressione del diritto all'autodeterminazione. E quello che è stato un vero esercizio di autodeterminazione, cioè il referendum di Crimea, non viene riconosciuto dall'Occidente. Sentite Obama che riesce, nella stessa conferenza stampa, ad affermare contemporaneamente il diritto all'autodeterminazione degli ucraini di Kiev, ma a legarlo a quelli della Crimea. Cioè, gli ucraini di Kiev, siccome vengono verso di noi, hanno il diritto di autodeterminarsi. Gli ucraini di Crimea, che invece vogliono andare verso Putin, non ce l'hanno. Pensate se la situazione fosse stata capovolta. Cioè, se i russi avessero organizzato un colpo di Stato a Kiev per rovesciare un governo filo americano e metterne su uno filo russo, e poi la Crimea avesse scelto di staccarsi dall'Ucraina perché voleva entrare nella NATO. Obama avrebbe detto, non riconosciamo il colpo di Stato illegale dei russi a Kiev, mentre accogliamo con piacere l'ingresso nella NATO della Crimea, che ha esercitato il suo sacro santo diritto all'autodeterminazione. Avrebbe tranquillamente capovolto i termini e nessuno da noi avrebbe avuto niente da ridire. Questa, purtroppo, è l'ipocrisia in cui viviamo immersi oggi. I valori vengono tirati in ballo a seconda della convenienza. In ogni caso, i russi di Crimea hanno voluto tornare sotto la Russia e lo hanno fatto. E la conferma che ci avevano visto giusto arriva qualche settimana dopo. Il 2 di maggio, durante una serie di manifestazioni che ci svolgono a Odessa contro il governo di Kiev, discendono sulla città gli squadroni di picchiatori nazisti per dare una lezione ai russi di Odessa. Arrivano in città e minacciano la polizia dicendo, se non sciogliete voi le manifestazioni ci penseremo noi. Poi i poliziotti vengono scacciati in malo modo e capiscono che in piazza non c'è posto per loro. Una volta preso il controllo della città, gli squadroni nazisti si dirigono verso Piazza Kulikovo, dove gli abitanti di Odessa stanno protestando contro il governo di Kiev. E qui succede quello che è passato alla storia come la strage di Odessa. I manifestanti vengono aggrediti dai picchiatori di settore destro e sono costretti a rifugiarsi all'interno della casa del sindacato che si trova su quella piazza. Ma questo edificio, purtroppo, si rivela per loro una trappola mortale. Una volta dentro, i manifestanti vengono assediati, mentre gli assalitori lanciano bombe molotov per dare fuoco all'edificio. Quelli che si rifugiano sui cornicioni per respirare diventano facile bersaglio per gli assalitori. Altri vengono invitati a saltare a terra con insulti e poi, quando cadono, vengono uccisi sul posto. Alla fine, i picchiatori di Kiev entrano nell'edificio e massacrano tutti quelli che trovano ancora vivi. Ci sono immagini, che non vi mostriamo, di cadaveri carbonizzati dappertutto, ma carbonizzati a metà. Questo vuol dire che non sono morti nell'incendio, ma che qualcuno gli ha dato fuoco dopo. Altre immagini mostrano una donna incinta legata a un tavolo e strangolata con un filo di ferro. Il bilancio finale è di una cinquantina di morti fra i civili di Odessa. Il giorno dopo, i nazisti di settore destro celebrano sul loro sito la giornata di Odessa come un altro momento di orgoglio nella storia della nazione. Anche nelle regioni orientali di Lugansk e Donetsk, il cosiddetto Donbass, la popolazione russa disconosce l'autorità del governo golpista e indice un proprio referendum per staccarsi da Kiev e diventare una repubblica indipendente. I want to support my people. We're against this band, we're against fascismo. I want to really, that this was a tamale union. We don't hear Kyiv, we don't hear Euro-Soyuz. Our people want to live quietly and peacefully without the junta who sees power in Kiev and so that we're not under America and the West. We don't want to be their slaves. We want to be part of Russia. We're against Russia! We're against Russia! Ma loro non fanno nemmeno in tempo a contare i voti che da Kiev arrivano i carri armati. anche i russi mandano soldati e armi attraverso la frontiera per aiutare la popolazione del Donbass. Ma contro i bombardamenti degli ucraini c'è ben poco da fare. E il presidente Poroshenko non si fa nessun problema a bombardare i civili della sua stessa nazione. a bombardare i civili della sua stessa nazione. Poi arrivano i neonazisti di settore destro che si uniscono al battaglione di Azov per fare pulizia etnica in Donbass. Razum, mi riduciamo l'antidergizia e rinnoviamo la territoriale civiltà di nostra bатьcina. Slavo l'Ucraina! Slavo l'antidergizia e rinnoviamo l'antidergizia e rinnoviamo l'antidergizia. Quello che fanno i neonazisti di Kiev alle popolazioni russofone ce lo facciamo descrivere da un rapporto delle Nazioni Unite del novembre 2014, cioè sei mesi dopo l'inizio dell'operazione. Il rapporto dice Seri e violazioni dei diritti umani persistono nell'Ucraina orientale nonostante un esile cessato il fuoco. Civili continuano ad essere uccisi, arrestati legalmente, torturati e fatti scomparire nell'Ucraina orientale e il numero degli sfollati è cresciuto considerevolmente nonostante l'annuncio di un cessato il fuoco del 5 settembre. Secondo l'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, da metà aprile al 18 novembre almeno 4.317 persone sono state uccise e 9.921 ferite nella zona coinvolta nel conflitto dell'Ucraina orientale. Continuano a registrarsi gravi violazioni dei diritti umani da parte dei gruppi armati che includono torture, sequestri arbitrari non comunicati, esecuzioni sommarie, lavori forzati e violenze sessuali, così come la presa di possesso e la distruzione illegale di terreni ed edifici. Vi ricorda qualcosa? Torture, esecuzioni sommarie, violenze sessuali? Quelli che oggi accusano i russi di questi crimini erano proprio quelli che li commettevano contro i russi del Donbass nel 2014. Però, quando queste cose le facevano gli ucraini, noi non ne abbiamo mai sentito parlare. Dove erano i nostri mentana, i nostri formigli e le nostre palombelli? E a proposito di accusare gli altri delle porcherie che fai tu, guardate questa immagine. Questo è un soldato ucraino che prepara le bombe da lanciare sul Donbass. Sui proiettili c'è scritto in russo, auguri per i vostri bambini. E queste bombe sono fotografate alla partenza, non all'arrivo. Quindi sappiamo bene da dove provengono. A Donetsk c'è un cimitero apposito, chiamato il Viale degli Angeli, dove sono stati sepolti oltre 250 bambini uccisi dalle bombe degli ucraini di Kiev. Tutti fra i 6 e i 9 anni. E tutto questo non è finito nel 2014, ma è andato avanti fino ad oggi. Nemmeno con l'arrivo di Zelensky le cose si sono messe meglio per i russi del Donbass. Nel maggio del 2019, infatti, Zelensky batte Poroshenko alle elezioni e diventa lui presidente. Per prima cosa, Zelensky promette di mettere fine alla guerra in Donbass. Lo ha detto chiaramente nel suo discorso inaugurale in Parlamento. Poi però, di mettere fine alla guerra non se ne è più parlato. Come mai? Lui, come presidente, è anche comandante in capo delle forze armate. Sarebbe bastato un suo ordine diretto senza intermediari per fermare immediatamente i bombardamenti. Invece non è mai successo. Chi glielo avrà impedito, secondo voi? Volete un'altra prova che Zelensky è solo un burattino manovrato dall'alto? Per fermare la guerra, Zelensky sarebbe bastato implementare gli accordi di Minsk del 2015, che prevedevano uno statuto speciale per le regioni del Donbass e la creazione di una zona a cuscinetto di 25 chilometri fra il territorio ucraino e quello dei separatisti. Questa fascia di sicurezza da sola avrebbe fermato immediatamente i canoneggiamenti. Ma Zelensky non ha mai voluto implementare quegli accordi. Come mai? Siamo arrivati fino al febbraio di quest'anno, quando la crisi internazionale ormai stava diventando irreversibile e gli accordi non erano ancora stati rispettati. A quel punto Macron è riuscito a strappare l'impegno sia a Putin che a Zelensky di implementare finalmente questi benedetti accordi per fermare la guerra che stava per arrivare. E Macron lo ha annunciato in conferenza stampa a Kiev davanti al mondo intero. È l'8 febbraio 2022. Ma il giorno dopo, stranamente, Zelensky cambia idea e si rimangia tutto. Questo è l'uomo che oggi si collega con tutti i parlamenti del mondo e si lamenta per l'invasione russa del suo paese. Ma è stato lui a rinnegare definitivamente gli accordi di Minsk, che poteva tranquillamente implementare due mesi fa o anche due anni fa, se lo avesse voluto. Perché non lo ha mai fatto? Perché ha cambiato idea dalla sera alla mattina lo scorso febbraio? Forse qualcuno voleva che la guerra nel Donbass continuasse per lasciare Putin senza opzioni e obbligarlo a intervenire militarmente. Forse. Questo noi non possiamo saperlo di sicuro. Di fatto, però, l'Ucraina non ha mai rispettato gli accordi firmati nel 2015 e la guerra contro la gente del Donbass è continuata fino al giorno in cui Putin ha deciso di invadere il paese. Torniamo adesso alla questione Nato, che è l'altro motivo per cui Putin sostiene di aver attaccato l'Ucraina. Cioè per evitare che l'Ucraina entrasse nella Nato. Già nel 2007, dopo l'ultima ondata di annessioni che aveva portato nella Nato Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia, Romania e Bulgaria, Putin alla Conferenza Mondiale sulla Sicurezza aveva dichiarato La Nato ha messo le sue forze di prima linea ai nostri confini. Questa espansione rappresenta una seria provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca e noi abbiamo il diritto di chiedere contro chi è indirizzata questa espansione? Che cosa ne è stato delle rassicurazioni che i nostri partner occidentali ci avevano dato dopo la dissoluzione del patto di Varsavia? Ovviamente nessuno ha mai risposto a questa domanda mentre la corsa per far entrare anche l'Ucraina, il grande pezzo mancante, della Nato è cominciata. Ora qui c'è da dire una cosa, perché io sento spesso in televisione dei commentatori che dicono che non è vero che l'Ucraina stesse per entrare nella Nato e che quindi quella di Putin fosse solo una scusa per invaderla e per prendersi il paese. E allora andiamo a vederlo da vicino, quanto l'Ucraina non stesse per entrare nella Nato. Torniamo quindi al 2014 dove avevamo lasciato Yatsenouk primo ministro, fresco di nomina dopo il colpo di stato della Nuland. Non appena instaurato, Yatsenouk riceve le congratulazioni di John Kerry, ministro degli esteri americano, dall'ambasciatore americano Pyatt e di John McCain, il solito turista per caso. Poi Yatsenouk viene accolto con grandi onori da Ban Ki-moon alle Nazioni Unite, da David Cameron in Inghilterra, dalla Merkel in Germania con Vitaly Klitschko e poi dall'Unione Europea. Poi va alla Casa Bianca e si premura di far sapere chiaramente al mondo da che parte starà la nuova Ucraina. Dopodiché Yatsenouk invita la Nato a venirlo a trovare a Kiev e chiede apertamente aiuti e armamenti per supportare il nuovo governo. I pass an invitation to the North Atlantic Council to visit Kyiv and it would be great if you have a meeting in Kyiv. We believe that we need to enhance our cooperation and we would be grateful if we get some kind of additional support, technical support, humanitarian support in improving Ukraine and defense and security system on the technical level. Il 29 agosto 2014 Yatsenouk annuncia che l'Ucraina chiederà di entrare nella Nato. Il 21 novembre la coalizione di governo annuncia che la Nato è la loro priorità. Il 23 dicembre il Parlamento di Kiev mette fine allo stato di non allineamento dell'Ucraina, condizione necessaria per iniziare il processo di ammissione alla Nato. Nel marzo 2015 Poloshenko approva delle esercitazioni militari multilaterali con la Nato. Fra queste l'operazione Guardiano Impavido con 2200 soldati di cui 1000 americani, l'operazione Brezza di Mare con 1000 militari americani e 500 della Nato e l'operazione Tridente Rapido con 500 militari americani e 600 della Nato. L'11 di aprile arriva in Ucraina il primo convoglio militare della Nato per l'operazione Guardiano Impavido, partito da Vicenza. Nell'aprile 2016 Biden promette a Poloshenko 335 milioni di dollari di aiuti per la sicurezza. Questi andranno ad aggiungersi ad un terzo prestito da un miliardo di dollari. Nel giugno 2017 la Rada, il Parlamento di Kiev, vota una legge che ristabilisce l'ingresso nella Nato come priorità per la politica estero-ucraina. La legge è firmata dal Presidente della Camera Andri Parubi, che è stato il cofondatore del partito neonazista Svoboda insieme a Oleg Tianibok. Andri Parubi, che qui stringe la mano alla nostra progressista Laura Boldrini, è stato indagato per la strage di Odessa ed ha pubblicamente lodato Hitler in televisione dicendo che è stata la più grande persona a praticare la democrazia diretta. Questo era il Presidente del Parlamento ucraino sotto Poloshenko. Torniamo la cronologia. Nel luglio 2017, un mese dopo, Poloshenko incontra il segretario della Nato Stoltenberg e chiede ufficialmente che venga iniziato il percorso di ammissione alla Nato. Nel settembre 2018 Poloshenko chiede al Parlamento di emendare la Costituzione in modo da rendere più facile l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Il 7 febbraio 2019 il Parlamento approva i cambiamenti richiesti alla Costituzione e conferma il percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea e la Nato, con un totale di 334 voti a favore su 385. Il 21 febbraio entra ufficialmente in vigore la modifica della Costituzione che prevede l'ingresso nell'UE e nella Nato. Nel maggio 2019, come abbiamo già detto, Zelensky vince le elezioni e prende il posto di Poloshenko. Zelensky prosegue sulla strada tracciata dal suo predecessore. Appena eletto, Zelensky vola a Bruxelles e incontra Stoltenberg, segretario della Nato. Nel giugno 2020 la Nato concede all'Ucraina lo status di partner con accresciute opportunità. Nel settembre 2020 il presidente Zelensky approva la nuova strategia di sicurezza nazionale che prevede lo sviluppo della speciale partnership con la Nato allo scopo di diventarne membro. Il 24 marzo 2021 Zelensky firma un decreto presidenziale per attuare la decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina sulla strategia di disoccupazione e reintegrazione del territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli. Strategia di disoccupazione e reintegrazione del territorio significa riprendersi militarmente la Crimea e Sebastopoli. Nel maggio 2021 il senatore americano Chris Murphy visita Kiev e incontra Zelensky. Dopodiché annuncia che aprire all'Ucraina il percorso di adesione sarà il prossimo passo logico verso l'ingresso nella Nato. Un mese dopo, al Summit in Bruxelles, i leader della Nato riconfermano la decisione presa nel 2008 al Summit in Bucharest che l'Ucraina diventerà un membro dell'Alleanza con il piano di adesione che farà parte integrante della procedura. Il 28 giugno 2021 l'Ucraina e la Nato lanciano un'esercitazione militare congiunta nel Mar Nero. Il 28 novembre, fra accuse e controaccuse, Mosca chiede garanzie legali che l'Ucraina non entrerà mai nella Nato. Queste garanzie ovviamente non le vengono date. Il 30 novembre, Putin dichiara ufficialmente quale sia la linea rossa dei russi sull'Ucraina. Qualunque ulteriore posizionamento di forze o di materiali Nato in Ucraina rappresenterebbe la linea rossa per il suo paese. Putin ha sottolineato soprattutto le sue preoccupazioni per il potenziale arrivo di missili ipersonici a lunga gittata che potrebbero colpire Mosca in cinque minuti. Spero che non arriveremo a questo, ha detto Putin, e che il buonsenso e la responsabilità verso i propri paesi e verso la comunità globale alla fine prevalgano. Il 1 dicembre 2021, Putin chiede ufficialmente garanzie che la Nato non si espanderà verso l'est. Ma gli Stati Uniti rispondono che per l'Ucraina le porte sono sempre aperte. Il 23 dicembre, in conferenza stampa, Putin torna a ripetere che per loro un'ulteriore espansione della Nato verso l'est è inaccettabile e torna per l'ennesima volta a spiegarmi i motivi. Noi abbiamo fatto chiaro che un altro movimento di più NATO all'est è inaccettabile. Non c'è nulla di questo. Noi non stiamo portando i nostri missili all'est. No. Noi, l'altro, l'U.S. stiamo portando i nostri missili all'est. Ma gli Stati Uniti fanno finta di non sentire. Il 31 gennaio 2022, alle Nazioni Unite, l'ambasciatore russo accusa pubblicamente gli Stati Uniti di fomentare le tensioni e di provocarli verso la guerra. Come se quello fosse davvero il loro desiderio nascosto. L'U.S. and colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation. The discussions about a threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen. As if you want to make your words become a reality. Ma gli Stati Uniti continuano a fare orecchie da mercante. L'8 di febbraio Putin, con tono chiaramente spazientito, lancia un ultimo avviso ai media occidentali. I want to add a little bit to this. I said it, but I wanted to hear you in the end of the day. And then you brought it to your readers, readers and users in the internet. But you understand or not, that if Ukraine will be in NATO and will be in the military way back to Krym, European countries will automatically be thrown into a war conflict with Russia. and you will find it to be taken into a war conflict with your own will. A quel punto la Russia fa un'ultima richiesta ufficiale agli Stati Uniti di mettere per iscritto che l'Ucraina non entrerà a far parte della NATO e che non ospiterà mai armi balistiche della NATO. La risposta, o meglio la sberla in faccia definitiva, arriva direttamente dal ministro degli esteri americano Blinken. From our perspective, I can't be more clear. A questo punto Putin rimane senza opzioni. L'unico modo per evitare che l'Ucraina entri nella NATO e che le piazzi i missili lungo i confini è quello di invaderla militarmente. Esattamente come per Kennedy, l'unico modo per evitare i missili russi a 200 km dalle coste della Florida sarebbe stato quello di invadere Cuba se i russi non li avessero ritirati. Perché mai la logica di Kennedy fosse giustificata, mentre quella di Putin oggi non lo sarebbe, qualcuno ce lo deve ancora spiegare. Fra l'altro, quello che Putin va chiedendo da anni, ovvero che l'Ucraina non entra nella NATO, è proprio la prima cosa che Zelensky è stato disposto a concedere dopo l'inizio della guerra. Zelensky ha ripetuto più di una volta che dobbiamo accettare che per noi di entrare nella NATO non se ne parla. Quindi viene un ragionamento da fare. Se questa concessione fosse stata data subito, se cioè la Russia avesse ricevuto le garanzie che ha continuato a chiedere ancora fino a metà febbraio, probabilmente questa guerra non ci sarebbe stata. Ma gli Stati Uniti si sono rifiutati categoricamente di dare questa garanzia e lo hanno fatto in modo chiaramente provocatorio. Quindi chi era, in realtà, che voleva che Putin attaccasse l'Ucraina? Putin o gli Stati Uniti? E infatti, guarda caso, i veri vincitori in tutta questa faccenda sono proprio gli americani. L'Ucraina è stata usata come un'esca, Zelensky ci ha cascato in pieno e adesso i suoi concittadini muoiono sotto le bombe. Nel frattempo gli americani, grazie all'invasione dell'Ucraina, hanno potuto a. staccare definitivamente la Russia dall'Europa, cosa a cui tenevano tantissimo, e b. scatenare la totale russofobia in Occidente, criminalizzando Putin a tal punto da potergli appioppare tutte le sanzioni economiche possibili e immaginabili. Che era poi la strategia delineata dai neocons già vent'anni fa per mettere in ginocchio i russi, staccarli dall'Europa, circondarli, provocarli fino a farli reagire e poi punirli con le massime sanzioni economiche. Win-win, la chiamano gli americani, vinci su tutti i fronti. Io mi fermo qua. Ovviamente ciascuno potrà farsi la sua opinione a questo punto, ma almeno adesso avete tutti i fatti storici a disposizione, non solo la metà che ci raccontano le nostre televisioni. Vorrei concludere con una citazione di Otto von Bismarck, il cancelliere tedesco di fine ottocento, che i russi li conosceva molto bene. «Conosco cento modi per far uscire dalla sua tana l'orso russo», diceva Bismarck, «ma non ne conosco nemmeno uno per farcelo rientrare. Non stuzzicate l'orso russo». Ecco, oggi noi siamo in questa situazione. A furia di circondarlo, di stuzzicarlo, di provocarlo, l'orso è uscito dalla tana. Adesso sono cavoli per tutti. Quindi adesso mi raccomando, rimettiamoci tutti via a discutere sull'ultimo razzo caduto per capire se è arrivato da nord oppure da sud. Inquadriamo in primo piano gli orsetti di pelusci insanguinati, i morti e le case distrutte e continuiamo a raccontarci quanto è cattivo Putin senza bisogno di fare una serie analisi storica. Tanto noi italiani queste analisi le facciamo sempre dopo, quando ormai è troppo tardi. Magari fra due anni, quando ormai le conseguenze delle nostre scelte sbagliate saranno ricadute su di noi, quando saremo dentro a una crisi economica insopportabile, allora ci metteremo a ragionare con calma, sempre dopo, sempre a posteriori. Fra due anni ci sarà un altro governo, quelli di oggi se ne saranno andati e quelli nuovi diranno «Però in effetti se avessimo valutato meglio certi errori li avremmo anche potuti evitare». E che cosa ci impedisce di farla oggi questa analisi? Niente. È solo la pigrizia di dover ammettere che qualche sbaglio grosso lo abbiamo fatto anche noi. Tutto qua. Per orgoglio, per pigrizia e per vigliaccheria, perché abbiamo paura di far arrabbiare gli americani, ci stiamo condannando ad un futuro molto peggiore di quello che potrebbe essere stato per tutti noi. A parte il fatto che da un giorno all'altro, se continuiamo a mandare armi all'Ucraina, potremmo diventare noi il bersaglio diretto di una guerra più allargata. Buon viaggio intorno al sole, direbbe Giulietto Chiesa. Grazie a tutti.